Bella ragazzi, qua Ghiotto, buona domenica, che campionato, mamma mia, sempre più corto, sempre più equilibrato e debbo dire partite non esaltante. Allora, ieri, vabbè, chi mi segue su Instagram, comunque fatelo anche perché da domani sarà una settimana molto interessante per me, quindi venite a seguirmi anche sugli altri social. Comunque, chi mi segue ha visto che era un matrimonio, quindi non ho potuto seguire le partite, però poi ho visto un po' le sintesi, i commenti, partita abbastanza scialbe, ecco, l'unica cosa al Milan che anche di fronte all'avversità comunque riesce sempre a vincere e a giocare comunque abbastanza bene con una certa logica. Mentre Napoli e Inter hanno faticato, soprattutto l'Inter. E oggi anche l'Atalanta, ragazzi, nulla di che, eh, io già ho commentato Monza-Atalanta, c'è il video sul canale, poca roba. C'è un'Atalanta che non ha mordente là davanti, gioca a ritmi bassi rispetto al solito, ha, tra virgolette, anche una panchina lunga, perché comunque, no, sono entrati Ederson, c'era comunque questo Oilund in panchina, Pasalic, Quindi, per carità, la rosa c'è, però, cioè, degli attaccanti di tre non ne fanno uno, cioè, Oilund è giovane, dobbiamo vederlo, ma non è nulla di che, c'è un puntero fisico, ma non è nulla di straordinario. Cioè, va bene se la squadra propone, se la squadra crossa tanto, se la squadra attacca, ma se deve tessere il gioco, se deve, come ha fatto oggi, giocare spalla alla porta, cercare di anche fare il regista d'attacco, non è capace, o non lo è ancora capace, magari lo diventerà. Ma, beh, Zapata è sempre rotto, Muriel è l'ombra di se stesso, poi anche lui, giocare spalla alla porta non è in grado, quindi, l'Atalanta si è trovata prima, ma perché, ragazzi, il livello del campionato è molto basso, poi siamo all'inizio, cioè, adesso ci sono Napoli, Atalanta e Milan, 14 punti. Quindi, l'Inter, c'è l'Inter che è disastrosa, è a meno due. Siamo all'inizio, lo ribadisco, però voglio dire, no, cioè, St'Atalanta fa ridere i pollici, oggi magari avrebbe vinto anche di un gol, ma capolisti per modo di dire, per quello che io mi incazzo che la Lazio, per dire, vinceva Genova, era lì anche lei, no? Adesso vediamo, oggi, col Verona, cosa facciamo. Comunque, complimenti alla Cremonese, che pur facendo, l'ho vista anche col Sassuolo, delle partite più guardinghe rispetto al solito, perché, purtroppo, proporre gioco è bello e tutto, però, quando ti devi salvare, a volte, ecco, racimolare anche un punticino. Perché poi, oggi, la Cremonese ci avesse creduto, chissà, perché l'Atalanta ha avuto un po' di sbandamento nel finale, a mio avviso, perché il gol subito, secondo me, non se l'aspettavano più, né Gasperini, né tutto il Ghewi Stadium. Poteva anche portarla a casa, la Cremonese, però, un punto qua, un punto oggi, sono già due punti in due partite, quindi, dai continuità, dai fiducia all'ambiente, la squadra, comunque, gioca bene, la Rosa, comunque, è lunga, cioè, adesso, anche con l'arrivo di Meite, che ha giocato bene, la Cremonese, nel suo piccolo, secondo me, ha diverse soluzioni. Ha un grande allenatore, un grande motivatore, che lì non molla un cazzo fino all'ultimo. Comunque, venendo alla cronaca del match, Gasperini ha schierato questo trio là davanti, Muriel, Malinowski, Lukman, con Lukman, Lukman, scusatemi, veramente il più attivo, questo ragazzo deve solo aggiustare un po' la mira quando va in porta, però, veramente un funambolico, cioè, non lo prendi mai, gran dribbling secco, eccetera. Con Derone e Kupmeiners, con Pol Faro della squadra, a centrocampo. Deludono le fasce. C'è un altro grosso limite, adesso, della DE, che prima c'avevi Atteborg in forma, due anni fa, e Gosens, che lo conoscevamo tutti, che adesso è irriconoscibile all'Inter. Adesso c'hai Stosso P, che a me non dispiace, però è molto grezzo rispetto a Gosens. E Atteborg, che, vabbè, è l'ombra di se stesso. Zortia non è male, magari, se entra nelle rotazioni, secondo me può dire la sua. Comunque, primo tempo che corre via, senza sussulti, ci sono stati un paio di tiri da ambo le parti, però, ecco, diciamo, Cremonesa abbastanza guardinga, che ha provato poi, in contropiede, comunque, a non buttare mai via il pallone, a tessere la transizione positiva, però, l'Atalanta ha tenuto in mano il pallino, con sicuramente Lukman e Malinowski, i più attivi. Poi, nella seconda frazione, diciamo che è iniziata un po' a ritmi più bassi. L'Atalanta teneva palla, praticamente giocava sempre nella metà campo grigio-rosso, e la Cremonese ha iniziato a fare la bocca al pareggio. Perché poi, se ti chiudi, l'Atalanta è una squadra che, in questo momento, fa fatica a scardinare un po' le difese, è chiaro. Quindi Gasperini ci ha provato, inserendo Oilun, che era stata una mossa vincente col Monza, e al posto di Muri, Ederson al posto di Malinowski, Ederson è entrato abbastanza col piglio giusto, e anche, in effetti, anche Alvina ha fatto un cambio offensivo, che poi però non si è visto, in realtà, il giocatore ha messo Zanimacchia per Escalante, Aska Shibar per Pickel, che poi risulterà decisivo, e Afenagian per Okereke, che è stato, praticamente, non pervenuto. Poi, al 64esimo, il fattaccio. Allora, punizione dalla destra, Cobb Manners, diciamo, tira in porta, un tiro cross per Andi in una deviazione, deviazione che arriva di mano da parte di Ocoli, tra l'altro, ex Cremonese, l'anno scorso era in prestito, ma era di proprietà, comunque, dell'Atalanta. Radu protesta subito, tocco impercettibile, e manca anche l'ammunizione, quindi gol annullato, però lì devi ammonire l'arbitro, perché, scusami, tu hai cercato di fregare, di fare un gol di mano, cavolo, se non è ammunizione quella, quindi questa è una grossa svista, è chiaro, perché poi, guardate, dal sessantesimo in poi ha dato 5 ammunizioni alla Cremonese e 2 all'Atalanta. L'unica ammunizione che c'era non l'ha data, vabbè, comunque, a parte quello. Però, praticamente, il gol poi è arrivato in fotocoppia, 10 minuti dopo, stessa punizione, Demiral, diciamo, fa questo tiro cross un po' più basso, c'è la divisione di Demiral, anche, secondo me, impercettibile di Toloi, comunque, il difensore turco porta avanti i suoi, Ghewi si esplode, Gasperini esulta, entra Pasalic al posto di Lokman, anche qua, ecco, c'è stata un po' una cosa carina, perché stava per entrare Bogat, gol, e Gasperini fa entrare Pasalic. Chissà che adesso, magari, Gasperini si è pentito di questa scelta, tra virgolette, un po' più conservativa, perché, secondo me, quando tu segna queste squadre, devi cercare di chiuderla la partita. Perché, magari, la cremonese rimane un attimo scossa, è meglio sempre portarsi, se si può, sul 2-0. Invece, l'Atalanta non lo fa, e il caso vuole che, 5 minuti dopo, un tiro di Aska Shibar, dal limite dell'area, veramente, parata in bagger di Musso, veramente, da brividi, io ce l'ho al fantacalcio, e Musso, quest'anno, è partito bene. Sappiamo che è reduce da una stagione deludente. Partito bene, oddio, fa una parata che, veramente, c'è, proprio un errore clamoroso, e bravo Valeri, che oggi è un po' in ombra, però Valeri è bravo, l'avrei voluto anche la Lazio, lo sapete, col sinistro, incrocia e beffa, appunto, Musso, sicuramente colpevole. Poi, prova i cambi della disperazione al Gasper, Mela e Zortea, Zortea, come detto, è entrato col piglio giusto, però non ha creato più nulla la Dea, e solita prestazione, devo dire, di Chiriches, molto attenta, anche Radu non ha dovuto effettuare parate incredibili, però è molto sul pezzo, Saiu, a me piace sempre di più, e, ripeto, buon esordio per me e te. Gli attaccanti alla Cremonese, purtroppo, poco serviti. Quindi, una Cremonese che ha la sua identità, che non molla mai, che sta bene fisicamente, un po' più guardinga, ma è un atteggiamento che, al momento, sta pagando. Atalanta, comunque, conferma il suo buon avvio di campionato, ma, sicuramente, via, può fare di più, e, al momento, non è che anche avesse vinto, sarebbe stata, ecco, una capolista, credibile. Ragazzi, like al video, iscrivetevi al canale, bello.